Bella a tutti belli e brutti, io sono Umberto Palumbo, siamo qui per fare il video della partita Roma-Lazio 3-1 Una partita assurda, veramente, sono contentissimo, questo video probabilmente uscirà un po' ritardo perché non posso caricarlo Veramente una partita assurda, 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 in tutte le maniere assurda, fantastica, piena di occasioni sia dalla Lazio sia dalla Roma Un Lazio che comunque ha giocato molto bene creando moltissime occasioni ma senza la concretezza trovando una difesa veramente molto molto preparata da parte della Roma Diversa da tutte le altre partite, l'unico errore ha fatto Fazio e anche qualcos'altro, ci sono stati qualche altri errori ma la Lazio forse ha mancato di concretezza Siamo stati anche un po' fortunati ma la difesa ha retto sicuramente meglio delle partite col Bologna, con il Chievo, con il Milan Ha detto sicuramente meglio L'unico errore plateale, subiamo gol, Fazio fa un erroraccio, cioè pure io con i piedi cionchi la passava a Manolas No, deve toccarla col sinistro e se la mette, come ha fatto, come ha fatto, come cazzo ha fatto, cioè non si sa, vabbè Vabbè alla fine si è riscattato perché sicuramente si fanno errori del derby, si è condizionato tutto l'anno, si è condizionato Ma dopo questo errore si è subito messo in gioco, ha fatto un grandissimo colpo di testa con un assist di un grandissimo Pellegrini che gliel'ha messa dentro Pellegrini fa sia un gol bellissimo di tacco, fa anche assist ma per il resto comunque dà molta concretezza per quanto riguarda la gestione palla Sicuramente un Pellegrini 26 volte più buono delle altre partite Gioca molto molto meglio, che secondo me, secondo me da trequartista forse con questo modulo rende molto di più Che nel 4 del 3 Pellegrini si vede, rende di più E la stessa cosa, Cristante è pastore Quindi abbiamo tre trequartisti, forse pochi mediani effettivamente Zaniolo anche lui è un trequartista, Coric è un altro trequartista Sono tutti trequartisti Non abbiamo i giocatori cazzuto come Strootman che ci poteva servare il culo, ma va bene Lasciando perdere questo, veramente una partita assurda La Roma gioca benissimo, con spinta, con forza, con voglia di portarla a casa Veramente una partita della Roma perfetta per quanto riguarda il morale Veramente una Roma che non si arrende come contro il Bologna Ma continua a spingere, a spingere, anche dopo l'1-1 Beffardo, un immobile, continua a spingere, a spingere, a spingere Trova il gol con Kolarov e poi ancora con Fazio Quindi una Roma assurda che continua a convincere a vincere Sono due partite, non sono tante, ma bisogna avere continuità Questo è il segno che la Roma potrebbe farcela Avere sia continuità, soprattutto arrivare in Champions senza problemi E forse anche a vincere lo student non si sa mai Ma è sicuramente difficilissimo, a quella strada è quasi impossibile Veramente I giocatori che mi sono piaciuti il più A parte Pellegrini, che secondo me è stato fortissimo Ma ce ne sono due che mi sono piaciuti il più Lui è da 7, Pellegrini Ma gli altri due sono da 7 e mezzo Forse anche 8 Il primo è Santon Santon Non parliamo dei panucci Parliamo di Santon Santon, avete capito chi è Santon? È un giocatore Che all'Inter veniva reputato come un ottimo, ottimo, ottimo prospetto Che poi si è trasformato in una pippa troce che tutti hanno odiato Tutti gli interisti, oh Santon fa cagato L'abbiamo trasformato in un fenomeno Sicuramente manca, cioè sicuramente con la fiducia della squadra Secondo me gli ha dato molta fiducia la squadra Monci non l'ha scelto a caso Gli ha dato molta fiducia Gli ha detto, scendi in campo Scendi in campo e facci vedere di chi si è fatto con la Roma Perché l'Inter non ti apprezza E questo è il risultato Veramente Santon lo stratosferico Recuperi palla da tutte le parti Anche in fase offensiva si fa trovare sempre pronto Santon è assurdo Questa partita è assurda Veramente è un'arma in più per questa Roma Almeno fino a questo momento E inoltre Alexander Kolarov Veramente 71esimo Kolarov Un po' un po' Si fa esultare sotto Sotto la tribuna Montemario Con le braccia alzate Inneggiando La Roma E naturalmente La ziaia ci sono rimasti male Non è che Ci sono dette Vabbò No, no Grande Kolarov Che è innamorato di Roma In tutte e due le sponde Ma sicuramente Ora di più quella della Roma Ora Prima Meno un poco Ma veramente Una partita di Kolarov Stratosferica Oltre al gol Che è veramente Gol pazzesco Addirittura superiore A quello di Pellegrini Perché la fine La porta era libera Anche se lui Comunque ha dei limiti tecnici E Comunque l'ha riuscito a piazzare Di tacco Di tacco Di tacco Ma soprattutto Kolarov Ha fatto una punizione pazzesca Diego grandissimo Che sposta La barriera Aprendo un varco E lui Cosa fa Kolarov La mette La mette proprio lì All'angolino Kolarov Fantastico Tutto questo aspetto Veramente le punizioni Sono qualcosa di potentissimo Kolarov Mi piace tantissimo E inoltre Dà tantissima spinta Morale Potenza Batte l'altra punizione Che quasi quasi entra Con una furbizia assurda Veramente quella punizione Se entrava Io risultavo tantissimo Era una punizione assurda 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 Peggio della punizione Di Neymar Col PSG Quando giocava Al Barcellona In quel 6 a 1 Che fece una punizione Pazzesca Comunque parliamo Delle punizioni Di Ronaldinho Che Col Brasile Nel mondiale Nel 2002 Che tirò Da casa sua E fece un gol Assurdo Qua parliamo Di un gol Pazzesco E superiore Secondo me Perché è stato Così furbo Da metterla A giro Dove i difensori Non la vedevano Dove i difensori Scusi Dove i difensori Coprivano la visuola Del portiere Del portiere Non vedeva niente Non vedeva niente Non poteva Veramente Sto eccitato Come una molla Cioè La Roma Ha giocato Benissimo Con potenza Con forza Sì forse Qualche limite Qualche limite Qualche limite Qualche limite Tecnico Lo abbiamo Qualche distrazione Abbiamo avuto Ma se condiviamo Così Facciamo Benissimo Si vede Perché la Roma È capace 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 Perché abbiamo I giocatori Abbiamo tutti Cazzuti Coloro È assurdo Santone È un grande Giocatore Molto sottovalutato Ho scoperto Quest'anno Perché anch'io Avevo bocciato Il suo acquisto Ma se l'hanno scelto Effettivamente A queste cose Non ci ho pensato Se Monci Anzi Tutta la società Roma Ha detto Che Nengolando Va andando via E dovevano pia Santone E Zagnolo E anche Qualche milioncino Vuol dire che Comunque Qualcosa Qualche logica L'aveva Veramente La Roma Mi è piaciuta Tantissimo Gioco assurdo E sono troppo felice Allora Iscrivetevi al canale Lasciate like Iscrivete Un vostro commento Sulla partita Bella Ah tra l'altro Al fantacalcio Io ho perso Tantissimo Ho perso tutte le partite Questa giornata È la prima Che la vinco La prima che la vinco Perché Sono stato veramente Grazie Piontek Perché Mi sono preso Piontek Ho scambiato Mi sono preso Piontek Sì l'ho preso Ho preso Piontek Come ho fatto Ma veramente Grazie Piontek Bella Grazie a tutti